è finito 2 a 2 il test in famiglia disputato qui sul campo del centro sportivo di Temu tra Sampdoria in maglia blu e Sampdoria in maglia bianca una buona amichevole accorciata nei tempi a causa del grande caldo che è calato anche sulla Val Camonica buone indicazioni per Marco Giampaolo che ha seguito l'incontro largamente dalla tribuna e solo per un piccolo tratto dalla panchina in occasione di un cooling break quando ha potuto dare disposizioni ai suoi come detto è finita 2 a 2 in vantaggio la formazione in maglia blu con la rete di De Luca un piatto destro pregevole con l'assistenza di Candreva proprio dalla fascia di destra poi è arrivato il pareggio ancora una volta una magia di Abdelhamid Samiri che in area di rigore ha dialogato nello stretto con le Risse e poi ha siglato il pareggio bianchi che hanno saputo ribaltare la situazione con il gol di Ciccio Caputo un'altra rete per lui un'altra iniezione di fiducia che ha consentito alla Sampdoria in maglia bianca di concludere il primo tempo sul 2 a 1 nella ripresa subito un lampo di Damsgaard che ha approfittato di un errore da parte della Sampdoria in testa avversaria si è incuniato in area di rigore di sinistro abbattuto il portiere buone indicazioni per il danese sul piano del recupero di una forma accettabile anche se gli manca ancora lo sprint dei tempi migliori e molto bene Sabiri anche questa volta luci ed ombre nella prestazione di Iep Slauto è schierato davanti alla difesa Giampaolo ha messo in campo una squadra con il 4 1 4 1 l'altra con il 4 4 2 proprio per mettere i due sistemi di gioco a confronto buone indicazioni anche da Murillo che è stato molto attento ha salvato in un paio di circostanze la propria porta e dunque si candida a rimanere se non arrivano difensori alternativi richiesti di mercato per lui che peraltro ha un ingaggio piuttosto alto un test dunque positivo nel finale un infortunio per un intervento un po' duro di Sabiri su Trimboli da valutare ma non dovrebbe essere nulla di grave l'ultima amichevole della Samp non sarà qui in ritiro ma sarà sulla via del ritorno ovvero a Brescia contro le rondinelle allo stadio Rigamonti alle ore 18 ci saremo anche noi per trasmettere l'appuntamento in esclusiva su tutte le nostre piattaforme cross mediali in streaming primocanale.it sulla pagina facebook di primo canale quella di primo canale sport e naturalmente in televisione con repliche serali una Sampdoria che poi concluderà ufficialmente il ritiro un brevissimo rompete le righe la ripresa della preparazione poi l'amichevole di fine luglio ad Istanbul contro il Besiktas quindi il debutto in Coppa Italia il 5 di agosto a Marassi contro la Regina e poi il 13 in campionato sempre al Ferraris contro l'Atalanta nell'attesa di qualche ingresso sono andati via Torsby Falcone ed Aschilsen ma si attendono giocatori soprattutto a centrocampo in fase di conclusione anche l'operazione piazza che può essere l'alternativa ad Amsgard sulla fascia a sinistra Giampaolo però attende ancora due centrocampisti ed un difensore per completare il mosaico ed affrontare una stagione che potrebbe essere poi caratterizzata ma più in là nel tempo dal cambio di proprietà dal campo di Temu è tutto Grazie a tutti Grazie a tutti